Per l'arrivo del pontefice a Lampedusa e l'emergenza migranti, nel centro di accoglienza ormai da un mese ci sono 67 minori non accompagnati. Il nostro inviato Matteo Parlato ha intervistato la responsabile di Save the Children. Sentiamo. Viviana Valastro, sono partiti da poco 117 profughi, destinazione Porta Impericole. In questo momento qual è la situazione del centro di accoglienza di Lampedusa? La situazione al centro è molto tranquilla, grazie a questi trasferimenti di oggi, ma anche della giornata di ieri, il numero sta lentamente arrivando ad azzerarsi. Resta però, in particolare per noi come Save the Children, la preoccupazione per la presenza che resterà tale, salvo diverse disposizioni di oggi, di 67 minori non accompagnati. Quindi ragazzi che sono arrivati qui da soli e per i quali non è previsto un trasferimento in tempi rapidi. Questi 67 minori, come vengono curati in questi giorni? In questi giorni lo spazio loro dedicato sono i 50 posti riservati a donne minori, quindi un numero insufficiente rispetto a quello che è il loro numero. Ed è il motivo per cui noi da tempo, quindi fin dalla ripresa degli arrivi importanti, ma anche prima quando in tempi ancora non sospetti, stiamo sollecitando le autorità finché si trovi sull'isola, ma eventualmente anche fuori dall'isola, un posto dove poter garantire anche una prima accoglienza, ma una prima accoglienza che sia adeguata e che sia rispettosa dei loro diritti. Nel centro è arrivata la notizia dell'arrivo del Papa qui a Lampedusa? Nel centro sta lentamente arrivando la notizia, nel senso che i migranti presenti sanno che c'è l'arrivo di una persona importante. Noi come Save the Children ci preoccuperemo di informare in modo adeguato i minori, non appena avremo conferma del fatto che saranno effettivamente presenti il giorno in cui il Papa verrà in visita, quindi lunedì. Quali sono i gruppi più etnici, più importanti all'interno del centro? La maggior parte delle persone arrivate in questi giorni provengono da paesi come la Somalia e l'Eritrea, questi sono i due gruppi sicuramente più numerosi, ci sono poi persone che sono arrivate da altri paesi come la Nigeria per esempio, però è un numero decisamente inferiore, quindi i due gruppi principali sono i Somali e gli Eritrei. Loro vi raccontano particolari del loro viaggio, vi dicono per esempio quanto pagano per attraversare il Mediterraneo o quanto hanno pagato per attraversare, parlo degli Eritrei, il deserto? Il prezzo più alto che loro hanno pagato è la loro stessa vita, quindi hanno rischiato la loro vita per poter arrivare qui e a questo rischio si è aggiunto anche una spesa di carattere economico che è variabile, dipende anche con il tipo di imbarcazione con cui sono arrivati, quindi pagano sicuramente una somma, una somma variabile che può variare appunto in base a quelle che sono anche le condizioni del viaggio, però ripeto il rischio della loro vita è il vero prezzo di questo viaggio.